Cosa è successo a Giulia Delellis nelle ultime ore? Cosa c'entra Tony F? Tutti i dettagli a seguire nell'articolo. Il 25 novembre di ogni anno viene celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma cosa c'entrano Giulia Delellis e Tony F? Proprio ieri, in occasione della ricorrenza, l'influencer di Pomezia ha pubblicato alcune stories denunciando la violenza di genere, ma nonostante il suo intento fosse nobile è stata ricoperta di insulti e critiche. Perché? Giulia Delellis ha condiviso un suo pensiero sulla giornata in questione e molti dei suoi followers si sono schierati contro di lei, citando Tony F. Giulia Delellis ricoperta di insulti nella giornata contro la violenza sulle donne. Giulia Delellis ha condiviso con i suoi followers un messaggio a favore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in tanti, dopo aver letto le sue parole, hanno citato la sua relazione con Tony F. Ecco cosa ha scritto l'influencer nelle sue stories. Vi invito, oggi più che mai, a regalare il vostro tempo solo a chi vi protegge, solo a chi si prende cura di voi. Solo a chi vi supporta e sopporta con rispetto e delicatezza. Solo a chi vi guarda e tocca con amore. Successivamente, poi, pubblicando una foto della mano di Tony F. sulla sua coscia, Giulia Delellis su Instagram ha scritto, le mani di un uomo vero ti accarezzano. Cosa c'entra Tony F.? Ma per quale motivo Giulia è stata criticata? E cosa c'entra Tony F.? In tanti, sul web, hanno criticato le parole dell'influencer, sottolineando che evidentemente non abbia mai sentito le canzoni del suo fidanzato. Ecco alcuni commenti che si leggono via web. Non ha mai ascoltato le sue canzoni, e si vede, e ancora, lui il simbolo migliore per la giornata devo dire. Come sappiamo, molti rapper e trapper come Tony F., usano spesso delle frasi colorite nelle loro canzoni, queste, in effetti, appaiono ben lontane dal rispettare le donne. Nonostante le critiche, comunque, né Giulia Delellis, né tantomeno il suo fidanzato hanno prestato il fianco ai pettegolezzi e non si sono curati delle aspre critiche nei loro confronti.